Allora, questa situazione è tendenzialmente la somma di tre aspetti. Il primo di questi aspetti è legato alle temperature che stanno aumentando e i capelli, come del resto tutto il corpo, hanno bisogno di più idratazione. Il secondo aspetto invece ha a che vedere con l'alimentazione, nel senso che gli eccessi della quarantena influiscono anche sulla qualità di cute e capelli. Il terzo e ultimo aspetto invece riguarda proprio il sole. Se ti metti sul balcone o in giardino a prendere il sole, è inevitabile che i capelli diventano più secchi e stopposi, proprio perché i raggi solari tolgono tutta quell'idratazione che per il capello è fondamentale. Detto questo, ecco tre consigli per evitare la disidratazione del capello e la conseguente secchezza. Come prima cosa, bevi molta acqua. Per idratarti in maniera corretta, questo avrà un impatto positivo anche su cute e capelli. Secondo consiglio, lava i capelli più spesso di quanto sei abituata a fare e usa uno shampoo e una maschera idratanti. Se sei abituata ad usare uno shampoo per un particolare problema cutaneo, che ne so, per esempio per un'eccessiva produzione di sebo, ecco puoi alternarli. Una volta usi quello per l'eccessiva produzione di sebo e la volta dopo quello idratante. Poi, finito di fare lo shampoo, soprattutto in questo periodo nel quale le temperature aumentano e magari ti esponi al sole, un prodotto come la maschera è fondamentale, a prescindere dalla struttura del capello. Maschera che almeno una volta alla settimana ti consigliamo di lasciare in posa per almeno 20 minuti. Ultimo dei tre consigli riguarda il momento nel quale ti esponi al sole. Esattamente come proteggi la tua pelle, devi proteggere anche i tuoi capelli. Non cambia nulla, funziona alla stessa maniera. Usi un prodotto per proteggere la tua pelle? Ecco, allo stesso modo è indispensabile usare un prodotto per proteggere i capelli. Un prodotto che applicherai soprattutto su lunghezze e punte tutte le volte che ti esporrai al sole. Questi consigli a carattere generale sono senz'altro molto utili. Detto questo, visto che ogni capello è diverso dall'altro, se hai bisogno di capire ancora meglio cosa fare per aumentare la qualità dei tuoi capelli, puoi scriverci e richiederci una consulenza personalizzata. Ciao!